prova a immaginare una linea e prova a seguire questa linea retta a un inizio a una fine e ascolta come ti senti chiudi magari gli occhi ascolta come ti senti lungo questa linea parti arrivi poi e poi prova a renderti conto che questa linea è all'interno di un cerchio in fondo una linea sono dei punti uniti in modo retto ascolta il cerchio vai nel centro del cerchio e poi ascolta come ti senti e poi muoviti dal cerchio verso la circonferenza muoviti nella circonferenza e poi torna al centro e ascolta come ti senti e poi guarda la vastità e la ricchezza di ogni punto di questo cerchio questa è una metafora per dire come il paradigma attuale è un paradigma lineare causa effetto virus vaccino il paradigma emergente che abbiamo detto è già emerso da tanto tempo ma che ancora fatica a prendere spazio e soprattutto grazie a questa emergenza viene completamente dimenticato è un paradigma sistemico che non ragiona secondo causa effetto ma secondo una circolarità di molteplici fattori ciascuno influenza l'altro e soprattutto per il quale la somma delle parti non è uguale all'intero l'intero quindi tutto il cerchio è qualcosa di più della somma dei punti e questo qualcosa di più è il campo cioè lo spirito c'è la dimensione essenziale del vivente ora possiamo capire come una scienza una conoscenza che consideri il cerchio è infinitamente più basta stiamo andando lì per questo dicevo la buona notizia non ti preoccupare non preoccupiamoci stiamo passando attraverso una strettoia forse inaspettata ma è semplicemente l'esasperazione della linearità quella che stiamo vivendo arriva un'emergenza si risponde secondo il paradigma dominante che è un paradigma lineare duale non potrebbe che essere così quindi diventa più evidente ci prende prende più spazio diventa più opprimente ma ciò non toglie che il paradigma del cerchio sistemico il per complesso interconnesso sia il futuro stia bussando alle porte da tutti i punti di vista e stia dicendo guarda apri gli occhi varca la soglia del tuo ristretto mondo malattia guarigione paura controllo medicina per risolvere il problema varca la soglia e accorgiti che sta già succedendo sei già immerso nella circolarità sistemica sei già immerso nella dimensione spirituale accorgiti non facciamoci traviare dalla manifestazione esteriore di questa esasperazione duale che sta dilagando lasciamo che sia guidarci il cerchio l'interconnessione la fratellanza siamo tutti fratelli i miei tecoyasi tutto interconnesso la visione cosiddetta olistica cioè integrale non è un verso new age ma ti dice guarda che il tutto è di più della somma delle parti quindi non lo puoi cogliere con la linearità pensa al famoso paradosso di di zenone no achille la tartaruga achille non raggiungerà mai la tartaruga chi lena la tartaruga in b quando achille arriva in a b la tartaruga sarà in c e quindi non lo raggiungi mai la metafora del fatto che attraverso la linearità di causa effetto non cogli l'essenza delle cose e cosa vuoi curare se non cogli l'essenza delle cose se nemmeno ti sogni e se non ascolti nessuno che voglia minimamente dirti guarda che forse c'è qualche cosa di più ecco questo puoi fare tu che ti senti in minoranza tu che ti senti circondato questo puoi fare porta il tuo messaggio di circolarità e di interconnessione guarda la rete della molteplicità dell'iper complessità e parla quel linguaggio conoscelo informati questo è quello che possiamo fare